Musica Alle 20 e 30 puntuali eccoci tornati al TG2000. Stasera abbiamo scelto di aprire il telegiornale con una bella storia di profonda riconoscenza. Lo hanno atteso per due anni ed oggi finalmente Amadi Ben Adeslem, la coraggiosa guida tunisina del Museo del Bardo, che ha salvato 45 turisti italiani durante l'attentato del 2015, ha finalmente incontrato a Milano tutte le persone che ha portato in salvo. Le immagini del commovente incontro nel servizio di Luciano Piscaglia. Alzi gli occhiali che ti bacio negli occhi. È un incontro atteso quasi due anni, quello avvenuto oggi a Milano tra la guida turistica tunisina Amadi Ben Adeslem e gli italiani da lui salvati durante l'attentato che il 18 marzo 2015 insanguinò il Museo del Bardo di Tunisi. Erano 45 gli italiani che quel giorno si affidarono a lui, che mise a rischio la sua vita per condurli in columi fuori dal museo. Oggi solo per alcuni di loro è stato possibile riabbracciarlo e ringraziarlo. A lui, musulmano, è stato dedicato un albero del Giardino dei Giusti di Milano, proprio per il suo eroico comportamento al Museo del Bardo. Da quando ci siamo lasciati con queste persone, l'unica cosa che io volevo è di rivedere questa gente e riabbracciarle, perché come hanno lasciato la mia terra, mi ha lasciato qualcosa dentro. Io non vedevo l'ora, questa settimana non vedevo più, il tempo non passava più per arrivare a oggi. È un'emozione forte. Noi sì, ci siamo riabbracciati e questo è stato veramente una bella emozione. Continua a fare la guida turistica a Madi Ben Abdeslem e aspetta altri turisti da accompagnare a scoprire la bellezza del suo paese. Ma la sua vita da quel giorno è profondamente cambiata. Oggi è un impegnato testimone dell'incontro e del dialogo possibile, tra persone di paesi, culture e religioni diverse, contro ogni fondamentalismo. Nessuna religione, né cristiana, né ebraica, né musulmana, uccide il nome di Dio. Dio dice siete nati tutti umani per vivere umani, per amarsi, per farsi del bene e aiutarci, non per ammazzarsi. Sono trascorsi sei anni dall'inizio della guerra in Siria. In un dossier della Caritas, la fotografia amara delle condizioni di vita di una popolazione estremata. La testimonianza del vescovo di Aleppo, Antoine Odo, nel servizio di Antonio Soviero. Dopo sei anni di guerra in Siria, l'85% della popolazione vive in povertà e un giovane su due è stato torturato, ha subito abusi. È la denuncia contenuta nel dossier elaborato dalle Caritas italiane e siriana, dove emerge che 7 milioni di persone non hanno cibo a sufficienza. Circa 13 milioni hanno bisogno di assistenza medica, mentre più di 6 milioni sono gli sfollati interni e 5 milioni i profughi scappati all'estero. Le vittime sono più di 470 mila, mentre i feriti poco meno di 2 milioni. A Raka si combatte la battaglia finale all'Isis, che potrebbe portare alla fine della guerra, ma c'è da ricostruire una nazione martoriata. Le tre priorità di oggi, prima di tutto l'educazione, perché abbiamo 3 milioni di bambini senza scuola. La seconda priorità è la salute. Tutta la gente è ammalata a livello fisico, psicologico, e poi aiutare la gente a ricostruire le loro case. A Ginevra, in Svizzera, è aperto il terzo tavolo per la pace in Siria, l'appello alla comunità internazionale del Vescovo Odu. Aiutare i siriani per trovare l'unità, non cercare di vendere armi e fare commercio per distruggere e dividere la Siria. E dall'inizio della guerra il scopo era distruggere la Siria per dividerla, come hanno fatto in Iraq. I siriani vogliono essere uniti e autonomi. Proibire il velo sul luogo di lavoro non costituisce una discriminazione fondata sulla religione o sulle convenzioni personali. Questo lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, pronunciandosi sul caso di due donne musulmane in Francia e in Belgio, licenziate per essersi rifiutate di lavorare con il capo scoperto, Maurizio Dischino. Una regola interna ad un'impresa che proibisca ad un dipendente di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso, non costituisce diretta discriminazione. E quanto ha sentenziato oggi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sede in Lussemburgo. I giudici si sono espressi sui casi di due donne licenziate in Belgio e in Francia perché si sono rifiutate di togliersi il velo islamico durante il lavoro. La Corte di Giustizia ha anche rilevato che il divieto di indossare simboli religiosi, in questi due casi il velo islamico, può invece costituire una discriminazione indiretta qualora venga dimostrato che l'obbligo abbia comportato un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia. Il fatto successo in Belgio riguarda una donna assunta nel 2003 come centralinista in un'azienda specializzata in sorveglianza e sicurezza. Dopo tre anni di lavoro, la donna comunica che avrebbe indossato il velo islamico nonostante una regola interna, in quel momento non scritta, lo vietasse per garantire la politica di neutralità dell'impresa nei confronti dei suoi clienti. La regola poi è stata messa nero su bianco e la donna è stata licenziata. Il caso è stato portato in tribunale che a sua volta ha chiesto un parere al Corte di Giustizia Europea. Sono diversi casi in cui la giustizia europea è chiamata a pronunciarsi sull'uso di simboli religiosi. Altra vicenda che ha fatto discutere la decisione della British Airways di licenziare nel 2006 l'hostess di terra Nadia Eweida perché si è rifiutata di nascondere sotto la divisa la collanina con il crocifisso. Nel suo caso invece la Corte Europea dei diritti dell'uomo nel 2013 ha dichiarato discriminatorio il comportamento della British Airways. Nel frattempo la donna era stata già reintegrata al lavoro. Sta facendo molto discutere questa sentenza della Corte di Giustizia Europea che riconosce alle aziende il divieto ai dipendenti di portare indumenti che sono anche simboli religiosi. Ascoltiamo adesso la riflessione del giovane musulmano El Sayed e del giornalista cattolico Michele Zanzucchi che legge la sentenza alla luce del valore delle persone. Pierluigi Vito. Questo sminuisce la persona umana. Credo che sminuisca la persona umana e non le dia tutto il valore che le è proprio. Le scelte religiose, certo, non devono essere sbandierate non devono essere offensive nei confronti degli altri però non credo che si possa dire che bisogna togliere tutti i simboli religiosi dalla persona umana. Altra cosa poi è il discorso del velo. Ovviamente quando si parla di vero islamico ce ne sono di diversi tipi quindi bisogna capire di che tipo si sta parlando. Ovviamente il burka negli uffici pubblici ovviamente non è tollerabile nel senso che bisogna riconoscere ma pensiamo a un normale hijab un normale hijab è come le suore nostre le suore nostre bisogna fargli togliere il velo anche negli uffici, ma perché? L'Europa pare sempre più in balia di un laicismo assediato dalla paura della dimensione religiosa espressa pubblicamente da ogni individuo un ostacolo a un modello di convivenza inclusivo e capace di costruire appartenenze condivise Piuttosto di applicare un modello come quello australiano o come quello canadesi che si concentra sulla persona e non sulla cosa si concentra sul valore della persona sull'identità della persona e non su come una persona si veste o mangia io lavoro anche in un albergo dove non ammette questo non ammette il ricevimento che ci sia una ragazza col velo ed io dico perché una ragazza col velo che magari ha fatto le università e è uscita con i migliori voti non può lavorare perché ha il velo e questo è un ostacolo perché una si vede frantumare il proprio futuro sparirebbero assegni familiari e detrazioni per i figli a carico per passare ad un unico assegno universale che assorbirebbe tutte le forme di sconto familiare ma c'è un problema di copertura nel disegno governativo secondo il forum delle famiglie Leonardo Possati Novità in arrivo per le famiglie italiane il governo ha ripreso in mano il disegno di legge delega Lepri che riscrive le detrazioni e gli assegni familiari traducendoli in un unico assegno mensile un aiuto che seguirà la crescita del bambino da 0 a 26 anni può essere una soluzione benvengano tutte queste soluzioni ci incontreremo la prossima settimana con il senatore Lepri con cui stiamo dialogando ancora non ci soddisfa pieno questo DDL ci è stato detto ci sono degli emendamenti migliorativi ma noi siamo convinti che la soluzione per questo paese sia una revisione fiscale strutturale che tiene conto dei carichi familiari per ora stando ad alcuni calcoli già effettuati si parla di un contributo mensile fino a 200 euro per figlio sulla base del reddito Isee va a migliorare perché va ad ampliare i beneficiari degli assegni familiari che oggi sono legati solamente alla tipologia del lavoro e non alla composizione familiare dall'altra parte e qui appunto ci sarà questo confronto per trovare una soluzione non ci soddisfa pieno perché abbiamo visto che in alcuni casi alcune famiglie numerose potrebbero avere meno soluzioni e meno aiuti rispetto a quanti ne hanno oggi capitolo coperture dai 16 miliardi di euro utilizzati oggi per gli assegni familiari si passerà ad almeno 20 miliardi annui grazie dicono a Palazzo Chigi ad ulteriori risparmi di spesa non ancora identificati tocchiamo il cellulare smartphone 2617 volte al giorno è una dipendenza l'allarme è serio e gli esperti avvertono stiamo diventando drogati di massa da internet sentiamo Federico Plotti come l'alcol come il fumo come il gioco d'azzardo internet e i social network creano dipendenza allo stesso modo stimolano il nostro cervello a produrre dopamina un neurotrasmettitore conosciuto anche come l'ormone dell'euforia che aumenta il piacere psichico e ci fa sentire appagati una sensazione alla quale facilmente ci si assuefa e di cui poi con estrema difficoltà se ne può fare a meno proprio per questo per l'alcol come per il fumo e le scommesse esistono dei limiti di età per internet invece no l'antropologo americano Simon Sinek ha avvertito tutti dei pericoli derivanti dall'uso smodato di questo strumento meraviglioso ma che rischia di rubarci la vita e la realtà e lo ha fatto con un video ironia della sorte pubblicato su youtube uno dei siti più visitati al mondo uno di quelli che alimenta costantemente l'internet e la social mania con il pc con il tablet ma soprattutto con lo smartphone la dipendenza da internet passa attraverso questi strumenti in molti lo sapevamo già ma finora nessuno aveva messo nero su bianco i numeri di un fenomeno globale che riguarda milioni di persone e soprattutto ragazzi e ragazzini delle nuove generazioni secondo una ricerca della società statunitense di scouts pubblicata dal fatto quotidiano in media utilizziamo il nostro telefonino per 5 ore al giorno toccandolo per ben 2617 volte uno su dieci lo guarda e lo consulta anche in piena notte e il bello anzi il brutto è che non ce ne accorgiamo più ormai ci stiamo abituando a rapportarci alla realtà solo negli intervalli tra una notifica una mail un messaggio o un post su Facebook Parliamo adesso di calcio di calcio senza limitazioni si torna a giocare pure a Pasqua dopo ben 40 anni in cui si sono anticipate le partite al sabato santo il prossimo 16 aprile in programma all'Olimpico Roma-Atalanta se i giallorossi supereranno il turno di Europa League Gian Piero Spirito Calcio senza limiti non si ferma neanche a Pasqua non accadeva dal 26 marzo 1978 quasi 40 anni fa oggi la Lega di Serie A come avviene periodicamente ha comunicato gli anticipi e i posticipi dall'undicesima alla quattordicesima giornata di ritorno ebbene domenica di Pasqua 16 aprile in programma alle 20.45 la sfida tra Roma e Atalanta all'Olimpico spostamento deciso rispetto all'intera tredicesima giornata che si giocherà sabato santo per consentire ai giallorossi di Spalletti di avere un giorno di riposo in più dopo le eventuali fatiche del giovedì santo in Europa League ipotesi infatti legata al passaggio del turno dopo domani contro Lione con i romanisti che devono recuperare il 2-4 dell'andata ma se così fosse sarebbe augurabile per una squadra italiana si andrebbe verso il clamoroso posticipo a dispetto delle tradizioni legate alla Santa Pasqua che coinvolgerebbe non solo i giocatori e le squadre ma anche i loro familiari tifosi e le forze dell'ordine non si può fare altrimenti per esempio giocare il giorno di Pasquetta come peraltro nelle disponibilità della società giallorossa il calcio business ha dimostrato in questi anni di non fermarsi di fronte a nulla scandali violenza doping e razzismo l'ultima frontiera quella del rispetto di una festività religiosa sentita dalla maggioranza degli italiani sta per cadere stiamo per salutarci perché è arrivato il momento del TG TG oggi vi accoglie in studio Saverio Simonelli ben trovato Saverio quali anticipazioni ci regali sulla puntata di stasera? eccoci qua altrettanto ben trovata Stefania l'anticipazione torneremo ovviamente anche sui fatti del giorno approfondiremo vedremo anche le aperture degli altri telegiornali però c'è una piccola così ne ricevo molto piacere voglio dire grazie all'intraprendenza del nostro Augusto Cantelmi ha raggiunto durante una presentazione un convegno niente proprio di meno che Beppe Fiorello che vista anche alla luce di quella della fiction in cui l'abbiamo visto recentemente parla del tema dei migranti quindi un Beppe Fiorello che dà il suo contributo da artista e da uomo di spettacolo anche un tema molto importante poi purtroppo si parlerà anche di agromafie e però cercheremo anche di dare un'occhiata con il nostro ospite Antonio Gaspari cercheremo di dare anche un'occhiata a degli aspetti positivi di un'Italia che cammina che ce la fa dell'indifferenza generale dovremmo dire dei media che però noi vogliamo cercare un pochino di sottolineare sa vero grazie grazie davvero a tal tuo ospite allora la linea passa subito al TGTG che inizia con uno sguardo lo sapete su come hanno aperto gli altri telegiornali nazionali vediamolo insieme